In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti E se berranno qualche veleno non recherà loro danno Imporranno le mani ai malati e questi guariranno Il Signore Gesù dopo aver parlato con loro fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio Allora essi partirono e predicarono dappertutto Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni Che l'accompagnavano Oggi la Chiesa celebra San Marco Uno dei quattro evangelisti Molto vicino all'Apostolo Pietro L'Evangelo di Marco è stato il primo a essere scritto È semplice, uno stile semplice Molto vicino Se oggi avete un po' di tempo, prendetelo in mano E leggetelo Non è lungo Ma fa piacere leggere la semplicità con quale Marco racconta la vita del Signore È nel Vangelo Che il fine del Vangelo di Marco Questo che abbiamo letto adesso C'è l'invio del Signore Il Signore si è rivelato Come Salvatore Come figlio unico di Dio Si è rivelato A tutto Israele Al popolo Specialmente Con Con più dettagli Agli Apostoli Ai discepoli Questo è il concedo del Signore Il Signore se ne va Partì E fu elevato in cielo E sedette alla destra di Dio Ma prima di partire Quando apparve agli undici Gli disse Andate in tutto il mondo E proclamate il Vangelo ad ogni creatura C'è la missionarietà della fede La fede o è missionaria O non è fede La fede non è una cosa soltanto per me Perché io cresca con la fede Questa è una cosa Una eresia agnostica La fede Sempre ti porta a uscire da te A uscire La trasmissione della fede La fede va trasmessa Va offerta Soprattutto con la testimonianza Andate che la gente veda Come vivete Qualcuno mi diceva Un prete europeo Di una città europea Mi diceva C'è tanta Incredulità Tanto agnosticismo Nelle nostre città Perché i cristiani Non hanno fede Se l'avessero Sicuramente La darebbero Alla gente Manca la missionarietà Perché Nella radice Manca La convinzione Sì Io sono Sono cristiano Sono cattolico Come se fosse Come se fosse Un atteggiamento sociale Nella carta d'identità Ti chiami così Così E Sono cristiano È un dato Della carta d'identità Questo non è fede Questo è una cosa Culturale La fede Necessariamente Ti porta Fuori Ti porta A darla La fede Va trasmessa Essenzialmente Non è Quieta Ah Lei vuol dire Padre che Tutti dobbiamo essere Missionari Andare Nei paesi Lontani No Questa è una parte Della missionarietà Questo vuol dire Che se tu hai fede Necessariamente Tu devi uscire da te Tu devi uscire da te E far vedere Socialmente la fede La fede sociale E per tutti Andate in tutto il mondo Proclamate il Vangelo Ad ogni creatura E questo non vuol dire Fare proselitismo Come se Io fosse Una squadra di calcio Che fa proselitismo O fosse una società Di beneficenza Non la fede Niente È proselitismo E far vedere La rivelazione Perché lo Spirito Santo Possa agire Nella gente Con la testimonianza E come la testimonio Col servizio Servizio È un modo di vivere Se io dico Che sono cristiano E vivo come un parano Non va Questo non convince Nessuno Se io Dico che sono cristiano E vivo da cristiano Questo attira E la testimonianza Preghiamo il Signore Perché ci aiuti A vivere la nostra fede così Una fede Da porte aperte Una fede trasparente Non proselitista Ma che faccia vedere Ma io sono così E con questa sana curiosità Aiuti alla gente A ricevere questo messaggio Che li salverà Grazie a tutti Grazie a tutti